Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. A San Valentino, in Abruzzo Citeriore, acqua contaminata dal batterio del Clostridium. Diverse persone colpite da problemi intestinali e dopo l'ordinanza firmata dal sindaco di divieto dell'utilizzo dell'acqua, arriva in paese anche la protezione civile. Paolo Renzetti. Sarebbe il Clostridium per Fingens, il batterio presente nei campioni d'acqua prelevati a San Valentino in Abruzzo Citeriore che hanno portato il primo cittadino del centro della Val Pescara, Antonio D'Angelo, a firmare l'ordinanza urgente in cui si stabilisce la non potabilità dell'acqua per qualsiasi uso alimentare anche previ a bollitura. Diversi tra i cittadini casi di dissenteria verificatisi nelle ultime 48 ore. La situazione però è in miglioramento. Questa mattina riunione con la protezione civile per decidere le modalità per l'approvvigionamento d'acqua. Intanto i consiglieri comunali di opposizione non ci stanno spiegando che il sindaco e l'amministrazione comunale devono assumersi le loro responsabilità riguardo a prevenzione, comunicazione e gestione dell'emergenza. Intanto il rifornimento idrico è iniziato da ieri sera perché ieri sera già alle 7 e mezza avevamo a disposizione 5 bancali di acqua in bottiglia che abbiamo iniziato a distribuire alla popolazione e sta continuando ad essere distribuita in queste ore. E' arrivata già una prima autobotte per rifornire gli allevamenti e nella giornata di oggi tra mezzogiorno e le 3 arriveranno altri 9 mila litri d'acqua sempre in autobotti. Oggi è ipotizzabile avere una data di quando si potrà tornare alla normalità? Proprio stamattina abbiamo fatto partire una lettera all'azienda consortile acquedottistica che ci sta dando una grossa mano perché nel nostro territorio è presente, pur avendo noi l'acquedottore e l'orfento che gestiamo in proprio, ma è presente un serbatoio dell'ACA e adesso abbiamo chiesto a loro l'autorizzazione ad allacciarci a quel serbatoio e nel momento in cui questo serbatoio dovesse arrivare saremo in condizione di far ripartire il normale uso delle utenze domestiche nel territorio comunale. L'opposizione parla di comunicazione arrivata in ritardo, di gestione dell'emergenza non all'altezza, voi cosa rispondete? Noi rispondiamo con quello che l'ho appena detto, che alle 13 abbiamo avuto la telefonata della ASL, i dati sono arrivati alle 15 di ieri, alle 7 e mezza già abbiamo iniziato la prima distribuzione e oggi stiamo completando il discorso. L'opposizione io capisco che debba fare il suo mestiere, però io dico sempre che quando ci sono delle emergenze forse la comunità si deve unire. Lo stabilimento Honda di Atessa compie 50 anni dal suo insediamento. Questa mattina si svolta una cerimonia all'interno della fabbrica in forma privata e per l'occasione la Will Wilm, il sindacato, ha organizzato un evento regionale per ragionare sul futuro del settore automotive che sta attraversando sicuramente un periodo di crisi. Nonostante le rassicurazioni di Stellantis restano i dubbi sul futuro produttivo della Sevel in Abruzzo. Il servizio è di Alfredo Primante. Giornata di festa allo stabilimento Honda di Atessa, siamo in Val di Sangro nel distretto dell'automotive, 50 anni dal suo insediamento è stato il primo questo stabilimento del settore nel 1971. Oggi occupa circa 700 persone, 900 con gli stagionali e produce moto per tutta Europa, uno stabilimento che ha anche resistito alla crisi di qualche anno fa e che oggi guarda con fiducia al futuro. Questo stabilimento va visto sotto un'altra ottica, va valorizzato il fatto che abbia resistito nel 2012 a una crisi nera legata non solo a quella di mercato ma anche a altri fattori che hanno messo sotto i riflettori uno stabilimento che ha rischiato la chiusura. Oggi grazie al sacrificio di questi lavoratori abbiamo un prodotto d'eccellenza, un prodotto di alta qualità appetibile sul mercato non solo europeo ma anche mondiale. A poche centinaia di metri dallo stabilimento Honda c'è quello della Sevel che produce il Ducato. In queste ultime settimane, in questi ultimi mesi ci sono dei dubbi sul suo futuro perché Stellantis ha anche un altro stabilimento omologo in Polonia a Givlize. Si tenta di far restare qui l'intera produzione, 300 mila furgoni, c'è stato un tavolo a Roma ma chiaramente fa ripuntati per uno stabilimento che ha una parte importante nella produzione del pil regionale. Vorremmo capire in via definitiva quali saranno le scelte industriali del gruppo, sempre con l'attenzione a tutelare i lavoratori e le catene di produzione rispetto ad alcuni segmenti che sono qui. Quindi c'è ancora da approfondire e da capire quali saranno le scelte finali. In che stato di salute è l'automotive? In Abruzzo e non solo? È un momento di grande difficoltà, intanto perché il mercato in questo momento risente della crisi che noi abbiamo attraversato e che stiamo attraversando ancora a causa della pandemia e c'è complessivamente una discussione da fare sul sistema automotive perché non riguarda solo questo territorio, il nostro paese, ma riguarda l'Europa. Ormai le grandi multinazionali lavorano e operano in più stati, con più settori e con più situazioni sia dal punto di vista legale che dal punto di vista finanziario e soprattutto per quello che riguarda le tasse. Noi abbiamo chiesto al MEF di attivare un tavolo di interventi sull'automotive e di attivare un tavolo che sia in grado di coordinare le politiche industriali che saranno scelte dal governo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Continuiamo a parlare di lavoro, ci occupiamo della vertenza della celta di Tortoreto e sarebbero salvi i 65 posti di lavoro con la ricollocazione dei lavoratori. Previste anche nuove assunzioni, come spiega i nostri microfoni, l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Quaresimale. Assessore, buone notizie nella vertenza che riguarda la celta di Tortoreto, non ci sarà nessun lavoratore che perderà il lavoro, ci saranno delle ricollocazioni, nuove assunzioni e anche prospettive molto interessanti per il futuro. Esattamente, buone notizie da Tortoreto da parte della celta perché è stata acquistata da una nuova società, la Digital Platform, che logicamente ricolloca le 65 persone che stavano in cassa integrazione, quindi nessuno sarà licenziato e per di più, in base al nuovo piano industriale, saranno assunte altre 30 persone. Inoltre è intenzione della nuova ditta fare un centro di ricerca, quindi il sito di Tortoreto diventerà un'eccellenza. Noi già a marzo, insieme al Presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsiglio, abbiamo incontrato questa società che aveva intenzione di acquistare la celta. Logicamente, trattandosi di comunicazione, era necessaria l'approvazione da parte del Ministero e del Governo. Appena c'è stato questo ok, si è concretizzato il tutto e quindi questa vertenza per fortuna ha avuto un esito positivo e quindi siamo felici. Ringrazio tutte le parti sociali, i lavoratori, ma anche i commissari che logicamente hanno supportato il buon esito di questa vertenza. E ora il consueto bollettino Covid. Quest'oggi nella nostra regione sono 56 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo. Quest'oggi i nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 95 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso, resta fermo a quota 2.550. I guariti di quest'oggi sono 67. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.384, 11 in meno rispetto a ieri. Nel totale sono ricompresi anche 409 casi riguardanti i pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono ancora in corso verifiche. Degli attualmente positivi in Abruzzo, 47 pazienti, 1 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale. In area medica 5, numero questo invariato rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1.332 positivi accertati, 10 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.440 i tamponi molecolari eseguiti per un tasso di positività dell'1,6%. Dei casi odierni, 20 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 12 a quella di Chieti, 5 a quella di Pescara, 18 alla provincia di Teramo, mentre uno dei positivi di oggi proviene da fuori regione. Non solo Covid, l'Abruzzo è al primo posto in Italia nel gioco d'azzardo. Nel 2019 gli abruzzesi hanno giocato 2 miliardi di euro e Teramo primeggia tra le quattro province abruzzesi ed è proprio da Teramo che prende il via un progetto di prevenzione sociale dal titolo La tua vita non è in gioco, finanziato dalla fondazione Tercas. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Da anni l'Abruzzo risulta il primo posto nella classifica di distribuzione dei giochi in Italia. Nel 2019 gli abruzzesi hanno giocato quasi 2 miliardi di euro. Teramo in particolare detiene la maglia nera tra le quattro province. Il gioco d'azzardo, che ormai riguarda anche le generazioni più giovani e senza distinzione di sesso, non è però la sola nuova dipendenza. Shopping, lavoro, sport, internet e videogiochi spesso diventano comportamenti compulsivi che hanno bisogno di supporto psicologico individuale e familiare. È quello che propone l'associazione Resaglio di Teramo che mette a disposizione un proprio sportello d'ascolto e organizza seminari informativi nelle scuole. Un progetto sociale dallo slogan La tua vita non è in gioco, finanziato dalla fondazione Tercas. L'Abruzzo comunque detiene la maglia nera per il gioco d'azzardo ormai da anni. È allarmante il dato riguardante il 2019 perché si sono giocati 2 miliardi di euro che è una cifra consistente. Sono soprattutto i ragazzi a questo punto ad essere coinvolti? È la popolazione tutta. Il gioco d'azzardo purtroppo è una problematica che riguarda tutte le fasce d'età. Noi ci siamo attivati perché negli ultimi anni ci siamo accorti che anche la popolazione giovanile iniziava a presentare delle problematiche relative al gioco d'azzardo. tra i 14 e i 19 anni è una fascia nella quale si gioca molto. Certo si scelgono dei giochi differenti, si scelgono giochi online oppure sale scommesse, però comunque si gioca d'azzardo, si spendono dei soldi, si spende del denaro. Come aiuterete queste persone? Nelle scuole ci occuperemo di fare dei seminari informativi rivolti agli studenti ed anche agli insegnanti, insomma i genitori. Questo ha il fine un po' di rendere dotti gli studenti rispetto alla problematica, così da poter riconoscere anche in un eventuale compagno il problema e d'aiutarlo. Per la fondazione Tercas sostenere questo progetto vuol dire ascoltare il territorio? Assolutamente sì, vuol dire mettere in atto quelle che sono le modalità più nuove di welfare territoriale. Un welfare che non impone ricette, che non impone modalità di risposta all'esigenza del territorio, ma che è attento alla voce del territorio, è attento a chi sul territorio opera e a chi ogni giorno condivide il percorso di vita complesso e oneroso di chi vive queste situazioni di forte disagio. E ora la pagina della cultura è stata presentata questa mattina a Pescara, la Adriatic Jets Women's Leaders, la rassegna Jets dell'eccellenza al femminile organizzata e promossa dall'ente manifestazioni pescaresi. Si chiama Adriatic Jets Women Leaders, la rassegna Jets dell'eccellenza al femminile organizzata e promossa dall'ente manifestazioni pescaresi. La rassegna si fonda sulla collaborazione tra Pescara Jets e Ancona Jets, due festival storici che rispettivamente dal 1969 e dal 1979 hanno ospitato i più grandi musicisti del mondo e che insieme presentano al pubblico un progetto di produzione di tre concerti che verranno replicati sia in Abruzzo che nelle Marche. Sicuramente un onore per Pescara, un onore per le ente manifestazioni, come ha illustrato già il direttore artistico, abbiamo tre spettacoli, due nel mese di ottobre e uno nel mese di novembre e abbiamo creato anche una rete con altri festival, cioè il Festival Jets di Ancona. È una cosa bellissima, una cosa che comunque ci ha entusiasmato fin dall'inizio, ci crediamo e vogliamo offrire alla cittadinanza di Pescara anche un'attività invernale. Il 20 ottobre ci sarà Serena Brancale con la sua straordinaria voce, con un progetto dedicato alle canzoni del sud, quindi con una forte connotazione etica, canzoni napoletane, pugliesi, siciliane, quindi diciamo il nostro mondo del sud Italia rappresentato in musica, con l'accompagnamento della Medit Orchestra. Il 27 ci sarà Carima, invece fa un progetto, un repertorio totalmente diverso, internazionale e lei farà invece un repertorio sempre accompagnato dalla Medit Orchestra di grandi successi internazionali tratti dal suo ultimo lavoro che è No Filter. E infine il 5 novembre qui a Pescara esordirà il 4 al Teatro La Fenice e la Senigallia, ma il 5 approderà qui a Pescara il progetto di Karim Bonnefoy, che non è una cantante, pianista, direttrice, compositrice, arrangiatrice, che presenterà la produzione diciamo così marchigiana, proposta da Ancona Jazz, con la Color Jazz Orchestra, che però in questo progetto si presenta in una veste più orchestrale sotto forma di large ensemble. Con questa iniziativa centriamo i due obiettivi che ci eravamo preposti, perché l'idea di base era quella di allargare la stagione del teatro e delle manifestazioni anche ai mesi invernali e quindi fare una programmazione che potesse avere valenza su tutto il corso dell'anno. E con questo nuovo progetto centriamo anche questo secondo obiettivo, perché è rivolto soprattutto ai giovani, che sia come pubblico il 50% delle repliche saranno destinate alle scolaresche e sia come partecipazione femminile, perché i progetti musicali hanno come protagonista proprio le tre leader femminili del settore della musica. E nel weekend si svolgerà la Pescara Windsurfer Cup 2021, la massima manifestazione di questa specialità e che vedrà il capoluogo adriatico per due giorni, capitale italiana del surf. Andrea Papa, allora parliamo di questo evento, un grande evento per Pescara e tra l'altro c'è una coincidenza particolare con i 30 anni della vostra società. Sì, diciamo che questa manifestazione che stiamo organizzando Pescara di Windsurf è una manifestazione che ha un po' una doppia valenza, sia quella di ospitare i migliori atleti italiani in questa tappa del circuito e del campione italiano Juniors e in più coincide, la facciamo coincidere anche un po' con il festeggiamento della ricorrenza dei nostri 30 anni di attività. Quindi diciamo una doppia festa, sia sportiva che insomma anche sociale per quanto riguarda le nostre attività. Che cosa vedremo in queste due giorni a Pescara? Allora, sicuramente lo spettacolo del Windsurf è unico, io dico sempre, perché comunque veleggiare con un Windsurf è un momento di totale, totale libertà, forse fra tutte le discipline veliche è quella che rappresenta al meglio la libertà nel mare. Vedremo tra i campioni perché nei 90 preiscritti che ad oggi hanno quasi tutti confermato avremo sia un campione del mondo italiano che tuttora il campione del mondo, un campione europeo master e Torzoni che è di Livorno. Poi abbiamo invece il campione europeo master che è barone di Roma e poi ci sono atleti più giovani che hanno già vinto in altre categorie, in altre classi, i campioni italiani quando erano un po' più giovani nelle giovanili sostanzialmente. Questa è una classe che racchiude e ha la caratteristica di racchiudere dei ragazzini dai 10 fino ai 60 anni, quindi è veramente uno spettacolo vedere insieme sia ragazzini molto piccoli con persone master e quindi che per me è anche un momento veramente molto importante di condivisione. Siamo così giunti allo sport, partiamo dal calcio, il Pescara è attualmente a meno 7 punti dalla vetta della classifica di Serie C e dopo il pareggio di Chiavari cerca ora la svolta. e alla vigilia del doppio turno casalingo in pochi giorni contro la Fermana, sabato e Modena, martedì, il primo passo sarà interrompere l'evidente problematica in difesa. Andrea Costantini. 8 giornate e 7 punti di ritardo dalla vetta, è il primo dato incontrovertibile che salta gli occhi. Il Pescara, costruito per competere per la vittoria del campionato, ha una strada in salita. Niente di compromesso in questo momento della stagione, ma è chiaro che è necessario cambiare passo e le prime risposte devono arrivare subito dal doppio turno casalingo. Fermana prima, Modena poi, lasciare per strada altri punti complicherebbe tutto. Un ritardo, quello accumulato in 4 giornate nelle quali il Delfino ha messo insieme la miseria di 3 punti, su cui pesa come un macigno lo scontro diretto perso con la Reggiana. La disastrosa direzione di gara ha lasciato il segno, ma a pensare solo a ciò è fuorviante. La gara di Chiavari ha confermato quello che anche le altre partite hanno detto. Questo Pescara continua a prendere gol con una facilità disarmante. Questione di equilibri, certamente, ma anche di atteggiamento. Prendere il primo gol di Lescano, dopo aver perso tre contrasti in piena area di rigore, o prendere il gol dalla bestia nera Schienetti con tutta la linea schiacciata in area senza che nessuno esca sulla palla e sul tiratore. Sono dinamiche che la dicono lunga e sono sulla falsa riga di quanto visto nelle partite precedenti. La squadra è stata rinnovata e serve tempo per acquisire maggiore intesa, ma probabilmente ci si aspettava un Pescara più avanti nel lavoro in questa fase della stagione. Su questi aspetti Auteri e il suo staff dovranno lavorare con i calciatori e non è il parlare o meno dei problemi difensivi del Pescara a fare la differenza, come a volte fa intendere in conferenza il tecnico siracusano. Di positivo c'è, d'altro canto, la voglia di lottare della squadra e la condizione atletica, aspetti che spesso consentono al Delfino di finire forte le partite. Non è stato ancora identificato il bomber, ma la squadra segna con regolarità, pur non avendo mai superato il limite dei due gol a partita. Ma la fase offensiva è buona e può migliorare. La crescita va fatta, come detto, in quella difensiva. E se si ripensa le partite con Viterbese e Vispesaro sarà evidente come il match sulla carta abbordabile contro la fermana non può essere minimamente sottovalutato. Torneranno a disposizione Di Gennaro e Diambò da valutare Drudi. Con Rizzo ancora out sarà interessante capire se accanto a Pompetti Auteri schiererà Diambò per un centrocampo verde concedendo un po' di riposo a Memushai o se toccherà ancora all'esperto centrocampista albanese. Sul fronte fermana ci saranno il difensore Blondet e gli attaccanti Marchi e Cognigni tenuti a riposo a inizio settimana. Fuori causa scrosta Boateng e De Pascalis, il tecnico Riolfo, subentrato quattro giornate falle di missionario Domizzi, dovrebbe ancora affidarsi al 4-3-1-2. Mancherà lo squalificato Capece. Cruciale la posizione dell'ex aquilano Frediani, quella di trequartista che il Pescara ha sofferto molto lunedì scorso a Chiavari. Seduta pomeridiana per il Teramo che prepara il match interno di sabato contro il Gubbio. torneranno a disposizione Boat e Drecca mentre non ci sarà l'attaccante rosso. Il difensore Piacentini parla del momento della squadra e strizza l'occhio a un'eventuale ipotesi di rinnovo. Ascoltiamolo. Noi partiamo sempre ovviamente con l'idea di non voler prendere gol, però cerchiamo di proporre un'idea difensiva abbastanza complessa, però cercando di stare alti. Siccome siamo giovani riusciamo a recepire anche, secondo me, abbastanza bene le informazioni che ci dà il mister. Secondo me è per migliorare l'attenzione, secondo me, l'attenzione ed esperienza, perché comunque l'esperienza la fai giocando e l'attenzione invece è quella che secondo me è importantissima per un difensore, ma è anche una cosa difficile, perché per tenerla sempre al massimo per 100 minuti è sicuramente la cosa più difficile. Però anche nella stanchezza, nella difficoltà fisica bisogna cercare di starli con la testa e cercare di non prendere gol, gol magari evitabili come abbiamo subito, secondo me. Cioè potevamo ovviamente averne subiti meno. Sicuramente le vittorie aiutano, comunque tutto l'ambiente, perché l'ambiente è più sereno, si riesce a lavorare meglio e quindi secondo me ci possiamo arrivare veramente bene. Loro comunque sono una squadra molto forte e fastidiosa, ma secondo me se la prepariamo come sappiamo fare, riusciremo a fare bene e a metterli in difficoltà e ovviamente a puntare alla vittoria come facciamo sempre quando scendiamo in campo. I punti secondo me sono importanti ugualmente, sia che i conquisti contro l'ultima in classifica che con la prima diciamo. E comunque secondo me abbiamo dimostrato di poterci giocare sia con le prime che con le ultime. Da parte tua comunque c'è la volontà, a prescindere di rimanere, poi magari i contrattempi sono dietro l'angolo, però così a bocce ferme c'è la volontà di rimanere. Sì, parlandone così su due piedi sicuramente, poi ovviamente bisogna anche vedere le condizioni, ma se me lo chiedete così su due piedi secondo me si può fare. Il 23enne Giuliese Matteo Ciprietti è campione italiano di motociclismo nella categoria Big Supersport. Il traguardo è stato tagliato nello scorso fine settimana all'autodromo Pietro Taruffi di Vallelunga, alle porte di Roma. Già con il secondo posto di sabato Ciprietti era diventato irraggiungibile e dopo il terzo posto della gara della domenica è iniziata la festa. Matteo Ciprietti trionfa in sella la sua Ducati Panigale V2 del team ZPM e Happy Racing queste le sue parole dopo il titolo tricolore. Sono molto contento di questo titolo, ho vinto, sono super soddisfatto, è stata una stagione fantastica, abbiamo lavorato bene sin dal primo giorno che ho provato questa moto, mi sono trovato bene, è stato un feeling ottimale già dai primi giorni che l'ho provata. Un grande ringraziamento al team ZPM Racing e Happy Racing perché mi hanno permesso di essere il primo vincitore con la Ducati in un campionato, visto che la moto è all'esordio, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato all'inizio campionato, cioè essere i primi e vincere il titolo, questo è molto molto importante. Poi vorrei ringraziare tantissimo la mia famiglia, tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni perché senza di loro questo non era possibile senza di loro, quindi sono molto contento. Le gare sono state, ho dovuto risparmiarmi un po' perché io avevo tutto da perdere quindi dovevo portare a casa punti per il campionato e sono contento, vediamo cosa ci riserverà questo 2022. Intanto ci ricordiamo il momento. che hanno vinto quest'anno gli europei, la nazionale maschile e femminile con gli allenatori De Giorgi e Mazzanti che saranno appunto questa sera ospiti di Sergio Zappalorto e ci sarà anche l'ex palavolista e attuale commentatrice Consuelo Mangifesta, quindi l'appuntamento è stasera alle 21. Il TG6 invece termina qui, la prossima edizione sarà alle ore 23 per il TG6 della notte. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie a tutti.